Siamo qui al teatro Nadur di Cicciano con i pari a Angelo e Sal per la seconda edizione dell'amore conta in memoria di Vincenzo Napoletano, una serata che unisce lo spettacolo alla solidarietà. Parte degli introiti infatti andranno a Carlo, un ragazzo di 16 anni in cura al bambino Gesù di Roma. Bisogna quindi essere presenti a questi eventi. Sempre, sempre, è una cosa bella, quando questi eventi vengono costruiti, c'è fatti, è una cosa veramente bella e quindi c'è da essere presenti con tutto il cuore e con tutta l'anima. Benissimo, ognuno quindi dona un po' del suo talento per giusta causa. Per la giusta causa, è giusto che sia, che benvengano sempre queste cose. Che cosa ci proporrete stasera? Stasera facciamo un classico pezzo di Nicolardi, La Tamurriata Nera, che ormai è conosciuta in tutto il mondo. E poi presentiamo uno o due pezzi, poi dipende dal tempo che ci danno, una o due canzoni nostre. Una, vorremmo fare la classica, quella che ci riconosce, che è Nuestam Mccà, che ormai ci accompagna da dieci anni. E poi vorremmo invece presentare un'altra canzone che pure l'abbiamo portata in giro per le piazze due anni fa, l'anno scorso, è nuova, abbastanza nuova. Che si chiama Ekandam Mokandam. Perfetto, facciamo un saluto a tutti i lettori di Street News. Saluti a tutti quanti e buona vita dai parià. Ciao dai parià. Ciao.